Oggi siamo tutti nasi da start up. 3, 2, 1... Giappa! Caga pazzesca! 1, 2 e 3! Siamo qui tutti i giorni per regalarvi dei momenti di distrazione e per farvi vincere di tutto, dal casco al motorino fino a una macchina. Sì, perché il super premio mensile è proprio una fantastica auto. Amici e amiche, quante volte avrete giocato nella vostra vita a cielo, cielo manca! O come diciamo a noi al sud, cielo, cielo, una teng! Questa è l'espressione, perché sapete che noi esageriamo con le espressioni e anche con il goderci, questo che è stato uno dei passatempi più straordinari della mia adolescenza e continua ancora ad esserlo oggi. Parlo dell'album ufficiale Panini dei calciatori, in particolare i calciatori 2009-2010. Ed è il premio che potrete vincere giocando con noi ogni giorno qui sulla 3. Il premio in cosa consiste? Nell'album, quindi quello ufficiale con tutti i calciatori che insomma giocano nel nostro campionato e ovviamente tantissimi stickers da attaccare, quindi vi ricordo che elemento fondamentale è attaccare la figurina diritta e non storta, perché se no l'album viene male e questo dà fastidio, soprattutto alla vista, quindi continuate a seguirci e soprattutto giocate con noi per vincere l'album ufficiale Panini, calciatori 2009-2010. Tutti i giorni in diretta sul canale 133 di Sky, in tv e sui tv fonini. Ladre vi renderà protagonisti. Weekend romantici e rilassanti. Tanto cinema e tanta musica per voi. Tanti oggetti utili per la vostra casa. Card per i ragazzi sempre pronte all'uso. E poi cellulare, gioielli, motorini. Te le gioca con noi. Te le vinci con me. Te le giocheremo. Te le vincerai. Te le giocheremo insieme. Te le vincerai con noi. E se sceglierete il vostro conduttore preferito? In paglio. Il super premio mensile. Te le vota per me. 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 Sarete voi. Ciao, io sono Valina. Non Velina, è Valina. Lo so, è facile confondersi. Poi io sono una grande appassionata di calcio. e si sa che il binomio velina e calciatore è andato alla grande in questi ultimi anni. Però alla fine anche senza essere velina, no? Io penso che un bel fidanzato calciatore non è mica male. Perché la domenica vai in tribuna allo stadio, le vacanze alle Maldive, giri sulla bella macchina e magari sei anche ricoperta di diamanti. Ma sto scherzando ovviamente perché siamo nel 2010 e questi discorsi sono un po' retrogradi. E poi se ti piacciono i gioielli, credimi, non hai bisogno né del fidanzato calciatore, né del marito, né di niente. Perché ti basso io. Giocando qui con me, sulla 3, potrei vincere una bellissima parurra, Monna Lisa, in argento rodiato. E quindi dico io, a che ti serve questo calciatore? Te le gioca con noi, perché ricordati, gli amori passano, ma gioielli restano. Buonasera a tutti e benvenuti. Io sono Yaya e voi siete sul canale 133 di Sky. Allora, siete pronti a giocare con noi? Noi saremo sempre in diretta per voi. E a voi basterà solo una telefonata per venire in studio a giocare con noi. Ed io sono Martina. Eccomi, sono Rudy. Questo è il nostro Studio Lounge, dedicato alle chiacchiere e soprattutto ai premi. Ciao, io sono Valina. Sono la più piccola del gruppo, la mascotte. Rudy ha detto la parola chiave. Premi, un sacco di premi per voi. Ciao ragazzi, io sono Romina. E anche io in qualche modo sono la più piccola del gruppo. Sì, perché c'è Brontolo, Pisolo, Rominolo. Ci prendiamo un po' in giro perché la vita è un gioco e anche noi ci metteremo in gioco con voi. Ciao a tutti. Io sono Fabio e sono il DJ del gruppo. Ha davvero ragione Romina. Perché voi da casa potrete votare chi di noi vi sta più simpatico. Ciao, sono Valentina. Saremo qui tutti i giorni per regalarvi dei momenti di distrazione e per farvi vincere di tutto. Dal casco al motorino a una macchina. Sì, perché proprio il super premio mensile è una fantastica auto. Io sono Clelia e questa è la regia. Però piano piano scoprirete tutti i nostri studi dedicati ai vari giochi che sono tantissimi come l'incastro, la strada giusta, i magnifici sette e ancora parole parole. E poi sono così tanti che non me li ricordo tutti. Ma non ti preoccupare Clelia, ci penso io. Ah, ciao amici, io sono Dino. Effettivamente i giochi sono tantissimi. Abbiamo i triangoli, il totale fa la somma, il taglia e cuci e il savassandir, come dicono i francesi, il mitico tre, solo tre. Poi gli altri li scoprirete giocando. Adesso venite. Eccomi qua, ho lasciato alle spalle lo studio del telegiocando show perché devo raggiungere i nostri amici, i miei colleghi, soprattutto qui, nello spazio del box time, dove conoscerete noi, ma soprattutto i nostri premi. Qui sembra tutto pronto, tranne me. Quindi iniziamo. E io sono Lisa, l'elemento vintage del gruppo. Adesso non ci resta altro che cominciare. Chissà chi di voi a casa sarà il primo a vincere. Ed infine ci sono io, Gian Paolo. Ed eccoci partiti con il canale. Non con un programma, ma con il canale. C'è un po' la differenza che c'è tra casa mia e il Colosseo. Ma queste sono solo quisquiglie perché, cari amici e care amiche, l'importante non è quello che dico io, ma quello che devi fare tu. Telegiocca con noi! Ciao! Sapete cosa davvero mi rimetto in faccia con il mondo? Ma sì, prendere la mia moto e via verso nuove emozionanti avventure e nuovi orizzonti. Ma non penso di essere il solo, visto che sempre più italiani scelgono proprio le due ruote come mezzo di trasporto preferito. E noi qui alla 3 vi diamo una fantastica opportunità perché telegiocando con noi potete vincere il fantastico casco Nolan N20 Traffic Caribe Plus. Un casco bellissimo, ma non solo perché c'è anche tanta tecnologia. Ha un'imbottitura interna che aderisce perfettamente al capo e pensate, è 100% made in Italy. Quindi che cosa aspettate? Anche se voi siete i più grandi centauri della terra oppure scuteristi della domenica, questo è il premio che fa per voi. Telegiocate con noi! Ciao! La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio Così cantava Julio Iglesias nel lontano 1976. Ma adesso siete con me qui nel 2010, attenzione perché la valigia sul tuo letto potrebbe essere proprio questa. Non un pezzo vintage anni 70, ma un modernissimo trolley momo design. Perfetto per i tuoi viaggi di divertimento, per quelli di lavoro, per quelli lunghi, per quelli brevi. Insomma decidi tu. Resta con me qui sulla 3 e prova a vincere questo trolley che è piccolo ma molto capiente. Insomma per viaggiare comodo ma anche con stile. Resta qui con me sulla 3 perché per citare ancora una volta Julio... 6 mila c'è non vale!